Per fortuna bene Alberto, così lo hanno chiamato i medici, il neonato abbandonato è trovato ieri pomeriggio in via Prealpi a Cormano, periferia nord di Milano, a ritrovare il piccolo che indossava una tuta ed era protetto da una copertina di cotone lasciato in una busta di plastica al bordo di questo vicolo, probabilmente nella speranza che qualcuno lo soccorresse, la signora Giuseppina che coltiva l'orto nelle vicinanze. Vedo un involucro in una busta pensando forse della patumiera o robe da buttare via, appoggio la bici ma in quel momento sento piangere un bimbo, chiamo mio marito per farmi forza dal momento che mi sentivo un po' giù, e dico Germano chiama subito il 112, il 13, quello che vuoi perché c'è un bambino per terra, un neonato, un bambino bellissimo. Alberto è stato subito trasportato all'ospedale Niguarda, si trova per precauzione nel reparto di terapia intensiva neonatale dove è assistito da un'equipe di medici, pesa 2 kg e 7 etti ed è in buone condizioni. Alberto sta bene, è un bel bambino che non ha sofferto per quanto ha passato nelle ore passate e quindi siamo soddisfatti perché sicuramente l'evoluzione è positiva della sua vita almeno qui da noi in ospedale, poi vedremo poi cosa farà. Mentre i carabinieri di Sesto San Giovanni indagano numerose le telefonate e le mail giunte alla direzione sanitaria dell'ospedale di persone che intendono adottare il piccolo, sarà però il tribunale dei minori a gestire le procedure per l'affido e quindi l'adozione del bimbo.